Buongiorno, benvenuti a questo appuntamento, questa conferenza che è stata organizzata in collaborazione tra il Conservatorio di Musica Campiani di Mantova e il Politecnico di Milano nella sua sede territoriale di Mantova, in particolare la Facoltà di Architettura, ed è per il Conservatorio un momento molto importante perché segna l'inizio di una collaborazione con un'istituzione prestigiosa con cui appunto siamo entrati in contatto ultimamente, con cui vogliamo sviluppare delle tematiche comuni e quindi approfondire appunto degli argomenti in cui ci siano dei punti di contatto tra architettura e musica. Il primo di questi appuntamenti riguarda una figura particolarissima, uno dei più importanti compositori della seconda metà del Novecento, Yannis Xenakis, compositore greco di nascita ma poi praticamente francese d'adozione e compositore che ha avuto una sua formazione da architetto importante, ha collaborato anche con Le Corbusier quindi ha avuto una base teorica molto importante e alcuni dei suoi criteri diciamo progettuali poi sono stati praticamente mutuati e trasferiti anche al suo lavoro di compositore musicale. Io intanto ringrazio coloro che hanno reso possibile questo incontro, il prorettore della sede di Mantova, il professor Bucci, la dottoressa Veneri, ringrazio la professoressa Cristina Guadagnini che ha fatto un po' la tramite tra quello che è la Facoltà di Architettura e il Conservatorio di Musica di Mantova e per ultimi ringrazio i relatori, i nostri due docenti e compositori conosciutissimi a livello nazionale Paolo Perezzani e Rossella Spinosa a cui lascio subito la parola per entrare nel vivo dell'argomento della conferenza. Buon ascolto. Salve a tutti. Allora noi avevamo pensato di cominciare entrando subito nel merito, dentro la materia e quindi vi proponiamo di ascoltare, di vedere pochi minuti, 4-5 minuti, di un breve frammento di un film molto interessante prodotto dalla BBC nel 1991, prodotto e diretto da Mark Kiedel e il cui titolo è Qualcosa di ricco e strano. La vita e la musica di Yannis Xenakis. Può partire il video. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 gli spazi più ristretti, pervade il suo agire in amici e due gli ambiti. Allora, prima di entrare in maniera specifica in questo, è importante naturalmente comprendere proprio il tipo di personaggio, nel senso che ormai siamo quasi 100 anni della sua nascita, perché è nato nel 1922, quindi considerate che è nato in Romania, in realtà poi a dieci anni è tornato in Grecia. Però è stato fortemente coinvolto da quella che è la Grecità, nel senso più aulico, ma anche più, diciamo, rilevantemente storico, quello che è il passato della Grecia, quello che è la grande storia, la grande filosofia della Grecia ha influenzato fortissimamente il suo comporre. Bene, in Grecia inizia a studiare sia musica con Kondurov, sia ingegneria e architettura insieme presso il Politecnico di Atene. Però nel 1941 necessariamente deve interrompere gli studi, perché c'è l'invasione nazista della Grecia, quindi ovviamente siamo in piena seconda guerra mondiale e questo blocca i suoi studi. Ma non è soltanto questo bloccare i suoi studi, ci sono alcuni eventi che diventano fondamentali. Voi avete visto all'inizio di questo video, lui dice l'espressione artistica, ma che coinvolge il proprio essere in tutte le maniere in cui esso si palesano. Quindi non soltanto nello scrivere, non soltanto nell'articolare il proprio pensiero, ma anche nell'avere una posizione politica. E Yannis Xenakis è un personaggio che prende posizione politica in maniera molto forte. E questo la pagherà, ovviamente, come quasi sempre accade nel momento in cui lo si fa. Il Xenakis infatti decide di combattere a fianco della compagine studentesca a sostegno della liberazione dell'esercito greco e in realtà la sua posizione politica nel momento in cui scoppia la guerra civile tra il 46 e il 49, quindi anche negli anni immediatamente precedenti, viene immediatamente naturalmente osservata e questo lo porterà ad una condanna sostanziale della sua persona che lo costringerà ad andare via dalla Grecia. Infatti riuscirà a scappare dalla Grecia nel 47 con un passaporto falso e a rifugiarsi in Francia. Da questo momento l'arrivo in Francia determinerà per lui una trasformazione incredibile, non soltanto per i contatti nel mondo musicale, perché passerà a diventare allievo di Messien. Quindi questo ovviamente inciderà sulla sua evoluzione, sul suo pensiero compositivo, ma anche l'ambiente sostanzialmente francese di produzione e di creazione cambierà in maniera radicale il suo modo di approcciarsi alla composizione ma anche all'attività architettonica. Infatti immediatamente già dal 48 entra all'interno di uno degli studi più importanti di architettura in Francia, ovvero quello di Le Corbusier, che citavo poco anzi proprio Gianluca Pugnalone, il nostro direttore, un architetto che a sua volta aveva delle visioni realmente innovative sotto tanti punti di vista. Questo lo citiamo realmente a un passant perché diventa un elemento importantissimo nella sua evoluzione, lo vedremo poi per alcuni aspetti in particolare. però quello che veramente influenza la natura di Xenakis è che in questa fase la sua ricerca è una ricerca che parte, come spesso succede nelle persone curiose, nelle persone che non cessano mai di cercare, un compositore in quanto tale dovrebbe essere così, la ricerca di quello che non funziona in quel momento storico, cioè di quello che non funziona in quella fase storica da un punto di vista compositivo. Cosa voglio dire? Allora, è stato definito nella storia della musica come uno dei compositori che più ha posto l'accento sulla negatività o meglio, sulla negazione almeno personale della valenza della musica seriale. La musica seriale creava una forte corrente naturalmente ed era un punto di riferimento importantissimo per gran parte dei compositori di questa fase storica. In maniera radicale, Yanis Xenakis prende una posizione opposta e lo fa per una ragione. È bellissima la sua affermazione, adesso io la cercavo poc'anzi ma non sono riuscita a ritrovarla proprio perché volevo citarvela, ma parla dei suoni che riescono a sfuggire improvvisamente a quelle che sono le restrizioni, le griglie poste dalla tonalità e all'improvviso questi suoni si ritrovano quasi dispersi l'uno rispetto all'altro ma improvvisamente ritrovano un'altra bella griglia comoda in cui accomodarsi, cioè quella della musica seriale. Quindi in realtà lui vede la serialità non come un'opportunità di cambiamento rispetto a ciò che era stato ma sostanzialmente come una nuova griglia, un nuovo camuffarsi di quello che era un sistema per chiudere le potenzialità dell'innovatività compositiva. E allora qual è la strada che immagina Xenakis? Beh, allora, questa l'ho ritrovata come frase, dice all'inizio ho sempre un'idea ma è un'idea che non sa. Allora cerco di informarmi, di capire. Devo dire che questa è una frase che realmente mi piace tantissimo perché esprime proprio la sua verità, secondo me. leggo questa o quell'altra opera teorica perché ho bisogno di leggerla. Ho cominciato in questo modo intorno al 1950 di interessarmi al calcolo delle probabilità. È stato un grande sforzo per me perché capisco con difficoltà la matematica. Quindi anche questo è abbastanza straniante. Ma ero convinto che i problemi della musica dovessero essere affrontati da quel punto di vista. in seguito mi sono reso conto che il calcolo delle probabilità mi aveva consentito di risolvere alcuni problemi ma altri rimanevano nell'ombra. Il tempo, le strutture mentali e in generale è vero che a causa della mia educazione greca e specialmente a causa della preferenza che ho sempre avuto per la Grecia arcaica ero naturalmente orientato verso la matematica. Ma queste riflessioni erano subordinate al mio bisogno di musica. Quando ho studiato la strategia di giochi che mi divertiva mi sono chiesto che cosa avrebbe potuto produrre in musica. In me c'era già l'idea di un conflitto. Sapevo che certe musiche dell'India si ispiravano a questa idea. Non è possibile simbolizzare completamente altrimenti la musica non sarebbe più necessaria. La musica concerne anche l'irrazionale. Cerco di analizzare la parte più evidente più comune ma in fin dei conti che cosa si può rispondere al mi piace. E allora la domanda che gli si pone in quel momento è poco fa dicevi che la teoria dei giochi ti divertiva. essere scientifici è anche una scelta. Si fa della scienza perché ci piace e il desiderio non è mai razionale. Allora guardate in queste poche parole di Xenakis si evidenzia quello che in tanti casi noi cerchiamo la coerenza in maniera sistematica qui parlo proprio da compositrice cerchiamo di essere sempre estremamente logico formali ed estremamente conseguenziali ma in realtà la sua verità in queste affermazioni è proprio il senso chiamiamolo umanistico dell'affrontare quello che è il dubbio compositivo e di affrontare nel cercare di individuare una strada che possa essere una strada nuova. È bello quello che dice Roberto Favaro non so se ne avete mai sentito parlare ma è un musicologo molto molto importante che a Milano rappresenta anche una figura di riferimento dal punto di vista intellettuale estremamente proprio determinante ecco e lui scrive l'architettura nuova dialoga con la musica nuova perché dialoga perché in realtà hanno tra loro alcuni elementi che naturalmente consentono di farli interagire e farle interagire sia la musica che l'architettura lavorano in una dimensione che cosa si intende per dimensione allora è molto interessante questo perché una delle degli aspetti più interessanti diciamo del legame tra musica e architettura che viene fuori nel testo del 76 di Anis Kesteran che sa appunto musica e architettura musica e architettura senza la congiunzione è proprio il fatto che la musica agisca su una dimensione che viene considerata una dimensione temporale e l'architettura apparentemente agisca su una dimensione che è spaziale ma in realtà osserveremo nell'ambito di questa prima parte proprio l'interazione che esiste tra la temporalità e la spazialità è molto stretta ed effettivamente attraverso un'analisi filosofico intellettuale di quello che la reinterpretazione che noi possiamo fare della spazialità possiamo comprendere la temporalità ora mi spiegherò meglio l'altro aspetto importantissimo è ovviamente quello che sostanzialmente muovono allora si dice che la musica riesca a muovere energia e si dice che l'architettura riesca a muovere masse ma l'energia è massa la massa è energia quindi vedete un'altra interrelazione che ovviamente non possiamo non individuare come un punto di colleganza essenziale su che cosa agisce in particolare la musica allora quello che dice Xenakis è ok la musica ha un'influenza particolarissima sulla psiche quindi naturalmente ha una valenza e un impatto fortemente impattante sulla nostra psiche e che cosa fa invece l'architettura agisce sul corpo nel senso che ovviamente il corpo si pone all'interno dello spazio c'è una intersecazione di relazioni e quindi ma corrispondentemente la psiche fa parte del corpo quindi sostanzialmente anche in questo caso vediamo che ci sono degli elementi di colleganza e infine su che piano si agisce allora il piano per un compositore è la partitura il piano per un architetto è un progetto ma una partitura è un progetto e un progetto può essere una partitura ed è proprio in questo cioè in questo legame continuo che si pone anche la base di quello che è stato poi un grandissimo progetto di Xenakis e di Corbusier che è stato quello del padiglione Phillips di cui ora parleremo prima però di approcciarci a questo mi piacerebbe evidenziarvi un altro aspetto importante Xenakis è riuscito e questo mi piace perché amo la polidricità perché sono una fervente sostenitrice di questo da quando sono piccola e del fatto che sia importante studiare a 360 gradi giusto e che quindi più conosciamo e meglio siamo e in questo senso Xenakis ne è una prova una prova provata beh in realtà l'aspetto incredibile di Xenakis è che è riuscito a mettere insieme le più competenze pensate un altro grandissimo della nostra storia della musica che è stato Nono ugualmente è stato fortissimamente interessato alla dimensione architettonica alla spazialità della musica però in realtà ha dovuto fare riferimento ad un'altra personalità che era quella di piano quindi hanno lavorato insieme su tantissimi aspetti ugualmente si sono posti il problema del viaggiare della musica all'interno dello spazio in maniera assolutamente paritaria l'hanno risolto in maniera molto diversa per esempio è estremamente interessante nel 69 un lavoro di Xenakis che è il Nomos Gamma che per 98 musicisti parliamo di sempre di colossi diciamo da un punto di vista compositivo e in cui Xenakis parliamo del 69 in realtà faceva proprio cominciava a lavorare con la presenza degli orchestrali disseminati tra il pubblico questo è un principio che ritroveremo anche nel Prometeo di Nono che però è 84 quindi naturalmente un ben più in avanti diciamo che l'aspetto importante è che i movimenti diciamo della musica nello spazio e viceversa dello spazio e dell'influenza dello spazio sulla musica sono stati vissuti in maniera sempre sinergica da ambe due ma talvolta con scelte dicotomiche perché per esempio se voi ragionate e quello che vedremo nel Paglione Philips ve lo spiegherà ancora meglio Xenakis ha cominciato a ragionare più che sulla distribuzione degli diciamo di colori quali rendono la possibilità di fruire la musica quindi in sostanza dei musicisti all'interno dello spazio ha cercato di ragionare sulla modalità in cui la musica potesse pervadere lo spazio e andare ad interagire con i personaggi che dovevano rappresentare la parte statica cioè il pubblico e lo vedremo quindi un aspetto importantissimo che secondo me oggi è ancora sottovalutato e sono passati 50 anni e oltre da quando loro ragionavano su questi aspetti è proprio la spazializzazione della musica cioè uno degli elementi su cui noi compositori abbiamo l'obbligo di ragionare e in che maniera realmente quello che ci hanno insegnato quello che hanno sperimentato possiamo renderlo oggi ancora fruibile e soprattutto possiamo trasformarlo per creare delle nuove possibilità espressive il prescindendo da quelli che sono gli aspetti teorici che esaminiamo magari più avanti quello di cui mi piacerebbe proprio parlare sono tre opere importantissime che hanno rappresentato in un certo qual senso diciamo il punto evolutivo iniziale importante di Xenakis sono dello stesso periodo storico sostanzialmente lui dice dal 1950 in poi cominciò a ragionare sul calcolo delle probabilità con lui si codifica un tipo di musica che viene definita musica stocastica di cui molto ovviamente i compositori presenti in sala hanno sentito parlare abbondantemente che naturalmente si basa sul calcolo delle probabilità e che rappresenta l'approccio matematico di Xenakis sebbene la sua sia prevalentemente musica stocastica libera poi naturalmente avrà una grande influenza su quello che il suo lavoro compositivo anche la teoria insiemistica che è a sua volta una modalità di approccio estremamente importante ma su cui magari torneremo dopo però uno dei lavori che realmente ha rappresentato un punto di non ritorno in un certo qual senso è stato Metastasis non so se lo conoscete ne avete sentito una parte all'interno del video è un lavoro su cui Xenakis ha impiegato circa due anni 1953-54 è un lavoro estremamente importante perché Xenakis dice nelle sue lettere sono partito in questo caso non da un calcolo matematico e non da una valutazione ex-ante ma da una situazione assolutamente empirica stava lavorando su due gruppi di accordi di dodici suoni ciascuno e stava cercando la modalità per riuscire a creare delle colleganze tra i suoni di questi accordi non riusciva a trovare una modalità per eliminare quelli che erano i vincoli di continuità cioè lui voleva scavalcare il senso della ripartizione della separazione voleva trovare una maniera per riuscire a creare un'energia massiva in movimento ovviamente e allora che ha l'idea naturalmente di quello che è il glissando cioè l'utilizzo spasmodico di glissandi e in questo senso chiedo di mandare la prima foto che avevo consegnato oh ma ci sono io in grande ok questa è una foto della partitura di Xenakis che vi dà l'idea del tipo di lavoro fatto naturalmente sulla orizzontalità e sulla verticalità intesa in senso però complessivo il profilo lineare era qualcosa che aveva sempre interessato fortissimamente Xenakis cioè l'idea di travalicare di cercare una strada per travalicare la linearità e in realtà l'uso del glissando rappresenterà per lui proprio questo cioè la possibilità di avere altezze continuamente variabili e non definibili in maniera puntuale perché è una degli aspetti diciamo apparentemente contraddittori ma che per me risultano particolarmente affascinanti nella sua figura è proprio questo cioè l'altezza è importante ma l'altezza è importante in quanto punto di partenza ma non punto di arrivo quindi semplicemente diventa punto di traiettoria ed è questo un aspetto veramente veramente rilevante poi ci sono ci sarebbero da ascoltare da da confrontare talmente tante opere però non abbiamo purtroppo il tempo per cui soffermiamoci soltanto su questo il nel 53 54 questa considerate che è una partitura importante perché ha anche un organico veramente veramente grande cioè abbiamo 12 fiati 3 percussionisti per 7 strumenti e 46 archi ora 46 archi che però signori non vengono trattati come trattiamo normalmente io che insegno tecniche di orchestrazione in tanti casi sono là a dire ok proviamo a vedere come gestire questi archi beh sono archi che diventano solisti quindi in realtà altro aspetto importantissimo della gestione in metastasis è il fatto che addirittura parta da un unisono raggiunga 46 posizioni differenti in contestualità e poi vedremo che ci saranno delle fasi in controtendenza e realmente si crea una situazione che io ho dato consegnato la regia due file di ascolto che adesso vedremo uno con partitura e ne ascolteremo un breve strato naturalmente non tutto per ragioni di tempo e un altro in cui invece c'è la raffigurazione grafica di quello che metastasis è stato per Xenakis e che Xenakis ha così rappresentato lo vedremo dopo perché ho voluto prenderli entrambi perché in realtà diciamo quello che ha generato in Xenakis l'idea della raffigurazione grafica di quest'opera è stata poi determinante ma veramente determinante per la partecipazione di Xenakis ad una grande progettualità qui ne parliamo perché ci aiuterà a capire anche altri aspetti come architetto Xenakis ha collaborato ad una grande opera che è stata il Padiglione Philips non so se ne avete sentito parlare mi auguro di sì era il 1958 un expo ben diverso da quello degli ultimi che abbiamo avuto modo di vedere perché la qualità della ricerca di quegli anni era veramente altissima quell'expo in particolare doveva rappresentare l'esaltazione massima della l'esaltazione massima diciamo della spinta alla tecnologia quindi doveva essere la raffigurazione della potenza innovativa della tecnologia quando l'incarico per la costruzione del padiglione fu dato dal direttore di Philips alle Corbusier in realtà fu dato dicendo noi non vogliamo esporre nulla dei materiali dei prodotti Philips noi vogliamo qualcosa che rappresenti la tecnologia nelle sue diciamo modalità di presentazione più elevate affidando interamente alle Corbusier l'ideazione di qualcosa che potesse rappresentarlo ora voi comprendete quanto fosse avanguardistica e visionaria questa visione da un punto di vista imprenditoriale ma anche da un punto di vista proprio di concessione creativa perché l'architetto e creatore altrettanto nella stessa identica modalità con cui lo siamo noi come compositori appunto quello che dicevamo prima loro creano un progetto noi creiamo una partitura ma la modalità è assolutamente analoga e le Corbusier era a sua volta un personaggio particolare cioè non è un caso che decida di introitare all'interno del suo studio una figura così particolare come Xenakis perché? perché era a sua volta uno studioso della forma dello spazio in una maniera particolare e se voi pensate il modulor era proprio un'invenzione di Le Corbusier in cui esamina il corpo umano e quelle che sono le proporzioni del corpo umano e riesce a ricavare da un esame dettagliato di questo riesce a ricavare in maniera incredibile le dimensioni naturalmente gli aspetti scientifici che sono posti alla base di questo senso della proporzionalità e a trasferire questo senso della proporzionalità naturale che è presente nell'essere umano all'interno delle sue opere architettoniche su questo e su modulor 2 ha lavorato contemporaneamente anche lo stesso Xenakis cercando di individuare delle regole matematiche dei principi matematici infatti è molto bello perché in musica architettura c'è tutta l'indicazione delle formule matematiche io non sono come in realtà lui lo era molto nettamente più di me però mi sono messa lì a cercare di comprendere nel dettaglio già da quando ero piccolina le formule matematiche purtroppo riesco a comprenderle soltanto fino a un certo punto ma non riesco poi ad andare fino in fondo però alcuni aspetti riesco ad individuarli in maniera chiarissima e in realtà in metastasis così come naturalmente in tutti i lavori da qui in avanti sino almeno al 57 l'applicazione di questa proporzionalità e di questo diciamo scatto ovvero gli elementi che potevano essere derivati dall'esistenza già di regole che derivavano dall'esperienza potevano diventare applicative della individuazione di eventi e di situazioni che a loro volta generavano delle proporzionalità e delle probabilità che diventavano base di calcolo per quella che era la prosecuzione della progettualità cosa voglio dire allora pensate questo che il principio del glissando si basa su un principio estremamente semplice che è quello della retta cioè la retta sostanzialmente era l'espressione da un punto di vista geometrico di quello che si ricavava direttamente dal glissando il Xenakis comincia a ragionare nel momento in cui gli viene affidata l'incarico di creare un poi definiremo la definizione data delle corbusier un padiglione in grado di generare un suono particolare una illuminazione particolare un effetto sulla persona o sul pubblico presente nello spazio particolare a sua volta bisognava ragionare sulle spigolosità le spigolosità dovevano essere in ogni maniera eliminate ora tutte le nostre strutture archiettoniche si basano ovviamente e sostanzialmente su spigolosità che comunque esistono nella loro naturalezza ed è in maniera analoga anche compositivamente anche nella stessa serialità soprattutto nella stessa serialità ci si muove verso altezze che rappresentano delle forme di spigolosità Xenakis porta avanti in parallelo permettetemi di semplificarvele in questa maniera in modo tale che voi comprendiate a fondo quello di cui stiamo parlando l'eliminazione delle relazioni fisse con la continuità discorsiva allora la continuità discorsiva significava l'annullamento delle singole altezze ma corrispondentemente da un punto di vista architettonico significava l'eliminazione delle angolature il padiglione Phillips e qui chiederei di inserirmi dovrebbe essere la foto numero due del che avevo consegnato no questo no no e la foto del questo è pitopracta no non è la se l'ho denominata come due no quella del padiglione allora è la tre questo è il politop no e l'immagine quella del eccola qua perfetto scusate non mi ricordavo i numeri che avevo consegnato la quattro grazie il questo è l'immagine proprio di quello che doveva essere sostanzialmente la rappresentazione grafica del padiglione allora come vedete si trattava di una costruzione dove tutto doveva essere privo di angolature specifiche l'aspetto Le Corbusier dà una definizione precisa quando riceve l'incarico Le Corbusier accetta e dice non vi farò un padiglione ma vi farò un poema elettronico e una bottiglia contenente il poema innanzitutto luce come secondo elemento colore come terzo elemento immagine come quarto elemento ritmo come quinto elemento suono tutti uniti in una sintesi che doveva rappresentare sostanzialmente l'apoteosi di quello che era una progettualità complessa ora questo padiglione che aveva una forma che poi fu definita dallo stesso Le Corbusier e da Xenakis come una sorta di stomaco in cui potevano entrare fino tra 400 e 500 persone all'interno e entravano da una parte e uscivano da un'altra nel momento in cui entravano avevano 10 minuti di permanenza circa perché 10 minuti perché naturalmente l'esperienza doveva essere un'esperienza realmente inglobativa che cosa voglio dire entravano e la musica doveva essere elemento determinante però stranamente Le Corbusier decide a chi affidare la parte di creazione musicale in parte da Xenakis ma non soltanto a Xenakis ad un altro personaggio a sua volta importantissimo incredibilmente visionario che è stato ovviamente Edgar Varese il lavoro di Varese era di circa 8 minuti di durata e diciamo che il lavoro che viene compiuto da Xenakis ovviamente con la collaborazione di Varese e ovviamente con la collaborazione di Le Corbusier è quello di far sì che il soggetto che avesse modo di entrare nel padiglione potesse vivere un'esperienza di uno spettacolo che doveva essere frutto di suono e architettura insieme e fruirne continuando a circunnavigare all'interno di uno spazio strutturato in una maniera assolutamente innovativa rispetto all'abituale con la musica che riusciva attraverso una gestione degli altoparlanti attenzione parametrati alle frequenze ciò vuol dire che per le frequenze alte erano stati disposti degli altoparlanti in alcune posizioni strategiche nella parte più alta del padiglione invece le frequenze più basse erano trattate con altoparlanti posti sulla base benissimo in realtà diventava un'esperienza sostanzialmente coinvolgente al 100% cioè dovevano uscire avendo la sensazione che quell'entrata in quel luogo fosse realmente qualcosa di ripetibile quindi ecco una vera innovazione cioè il vivere la musica nuova in uno spazio nuovo ecco perché Favaro giustamente dice la musica nuova dialoga con l'architettura nuova e viceversa perché possono essere entrambe inclusive e così lo sono state nel 58 di un'esperienza che diventa imparagonabile ad altre immediatamente dopo l'esperienza di metastasis che ha influenzato poi appunto la costruzione dei padiglioni Philips c'è stato un altro lavoro tengo d'occhio l'orario per controllare di non andare lunga di un altro lavoro sono giusta giusto un altro lavoro importantissimo che è stato Pitopracta immediatamente dopo quindi 53-54 abbiamo metastasis 54-55 lavora su Pitopracta in realtà in questo caso l'affidamento della prima esecuzione di Pitopracta è a Scherchen ora non so quanti di voi si occupano anche di direzione d'orchestra ma è uno dei grandi beh uno dei miei studenti sì è uno dei dei grandi riferimenti diciamo per la direzione d'orchestra ed è stato anche un grandissimo e innovativo direttore perché è interessatissimo alla musica nuova ha lavorato con Xenakis moltissimo e Pitopracta è stato uno dei primi lavori che ha messo in scena proprio lui devo dire che anche qui parliamo di un organico gigantesco perché abbiamo anche qui un'orchestra d'archi sempre di 46 archi due tromboni xilofono e woodblock in questo caso qui vi è l'applicazione la prima vera applicazione proprio dell'organizzazione del materiale da parte di Xenakis che lui definisce come action through probability quindi un'azione creata attraverso il calcolo delle probabilità ora l'immagine credo che fosse la 2 a questo punto andando a ricostruire i numeri eccola qua è l'immagine proprio grafica di Pitopracta qui siamo nel pieno della elaborazione diciamo del consolidamento delle DMS fuori da Xenakis all'interno di metastasis e contemporaneamente la ricerca di nuovi diciamo orientamenti dal punto di vista della produzione del suono per avere un'idea migliore diciamo vi farei ascoltare ora a confronto una parte di metastasis giusto l'incipit un paio di minuti chiederei di mandare sia del diciamo prima del video numero 2 che dovrebbe essere quello col grafico e poi a seguire il terzo e quarto minuto magari dal invece dal video numero 1 che è quello con la partitura e poi invece a seguire vi farei ascoltare una parte introduttiva di Pitopracta proprio perché voi possiate cominciare ad entrare in quello che è il mondo sonoro di questi anni e perché questo mi serve come passaggio e come aggancio con la Corripsis che rappresenterà però una formula differente quindi manderei io ora prima il video con esatto benissimo questo grazie per un paio di minuti ascolterei questo grazie mille bisogna un po' aumentare il volume per favore lo capisci da qui vedi qua lo capisci adesso ci provano per favore per favore per favore per favore possiamo passare al video numero 2 partirei da due minuti e mezzo per favore più o meno per favore più o meno perfetto, grazie questo poi ci servirà per poter avere un collegamento con il terzo lavoro che ascoltiamo adesso invece ascoltiamo la parte iniziale del video di Pitopracta del video con ascolto eccolo grazie a tutti grazie a tutti grazie, grazie mille grazie mille allora perché ho voluto farvi ascoltare giusto questi incipiti? Perché dovete pensare che l'elaborazione di Pitopracta è partita da una raffigurazione grafica in cui c'era asse delle ascisse e asse delle ordinate sulle ascisse in pratica aveva segnato che 5 cm dovevano corrispondere come distanze al valore di una semiminima a 26 bpm e sulle ordinate invece aveva indicato le altezze dove c'era un riferimento per cui 0,25 cm rappresentavano la distanza di un semitono sulla base di queste proporzioni aveva iniziato la creazione di quella che era sostanzialmente la partitura aveva poi determinato alcuni parametri ve li leggo perché sono veramente essenziali sono 5 parametri le durate non dovevano variare le altezze dovevano essere costantemente modulate la densità dei gradi sonori doveva essere costante la dinamica doveva essere stabilita diciamo con una tendenza al fortissimo e i timbri non dovevano montare per la durata delle sezioni questi erano alcuni parametri che lui metteva al di fuori di questi parametri andava ad applicare un principio che era quello del principio matematico degli incastri secondo il calcolo delle probabilità quindi realmente vedete che c'è sempre questa natura in un certo qual senso un vero e proprio ossimoro della gestione della filosofia compositiva alternata e quasi in maniera oppositiva rispetto a quelle che erano i principi matematici ultimissimo accenno è ad acorripsis è l'ultimo di questi tre lavori di come periodo siamo 56-57 è un lavoro per 21 strumenti ed è interamente basato questo sulla teoria di Poisson quindi sostanzialmente una teoria matematica in cui ci si basa sugli eventi che sostanzialmente sono relativamente irrilevanti costruisce 196 celle all'interno di questo e acorripsis è forse la derivazione matematica di quello che era una filosofia visionaria che abbiamo visto invece in Pitopracta e in Metastasis quindi rappresenta in un certo qual senso un perseverare che poi porterà verso una posizione sempre più integralista in un certo qual senso di Xenakis ascoltiamo giusto l'incipit di acorripsis per avere un'idea e in maniera tale da lasciare poi la parola al collega acorripsis, grazie e in maniera tale da lasciare poi la parola al collega e in maniera tale da lasciare poi la parola al collega grazie mille in questo ascolto voi immediatamente percepite che l'esaltazione massima a acorripsis in questa fase, diciamo, quattro anni di pensiero acutissimo di Xenakis però è l'elaborazione di quello che è il principio ed è il pensiero del ogni evento per sé cioè qui non si sta cercando lo avvertite subito rispetto a Metastasis e a Pitopracta c'è una dimensione sonora molto diversa qui c'è un calcolo delle probabilità ma non finalizzato ed ecco perché proprio l'esaltazione massima è il radicalismo che si afferma nel suo pensiero e in realtà in cui ciascun evento comincia ad esistere in quanto tale non necessariamente in una funzione massiva dello spostamento e dell'intersecazione e questo naturalmente porterà poi all'approfondimento che adesso farà Paolo sull'importanza appunto dell'idea di massa che sarà determinante prego Paolo grazie stavo pensando mentre parlavi certo che Xenakis l'ha pagata subito molto questa cosa dovete considerare che Xenakis è rimasto per anni un parvelu quasi snobbato d'altra parte la sua formazione non era essenzialmente musicale ha sempre amato la musica suonava anche un po' il pianoforte insomma si dilettava a suonare ma non aveva avuto una formazione accademica quindi in Francia non è stato ben accolto dagli ambienti ufficiali musicali Bulesi primo ma tutto l'ambiente musicale inizialmente l'ha snobbato d'altra parte lui stesso arriverà a dire che dice sì forse ho parlato un po' troppo di matematica cioè me la sono tirata dietro perché pensate io ho avuto la fortuna qualche anno fa di conoscere come si chiama Sharon Knack che era la sua segretaria e questo lui lo ripeteva spesso negli ultimi anni di vita dice beh hanno tutti pensato che io facessi solo matematica invece cavolo io sono musicista ora io direi è un po' il scotto che si paga sempre nella polegricità infatti allora io direi questo cioè anche soltanto dopo avere questi brevi ascolti che abbiamo fatto mi sembra evidente che qualsiasi discorso sulla relazione tra la musica tra la musica di Xenakis e l'architettura debba muovere dalla considerazione che ci troviamo di fronte a un'idea di musica diversa non solo rispetto alla musica all'avanguardia di Cogliani come stavi dicendo ma anche rispetto a quella di tutta la tradizione musicale occidentale non so ci sono momenti abbiamo sentito qua e là ma anche nel filmato nel bel filmato iniziale ci sono momenti che ricordano qualcosa di simile allo scatenarsi di forze primarie degli elementi della natura abbiamo ascoltato una musica insomma a tratti tellurica eccetera allora partiamo da qua io proverò adesso innanzitutto a dire qualcosa sulla musica di Xenakis cioè sul suo modo di concepirla di comporla di progettarla e lo farò cercando di evidenziare alcuni aspetti che possono essere utili per metterla in relazione appunto con l'architettura poi dirò qualche cosa però anche su alcuni temi che stanno alla base del suo pensiero e del suo operare artistico e sono gli aspetti che continueranno ad esistere anche quando abbandonerà questa furia matematica e scientista in parte da cui però ha tratto origine e che quindi è comunque importante ora partiamo dalla musica dunque intanto intanto faccio un salto indietro in uno scritto dunque guardate appena potrò lascerò la parola a Xenakis ci sono diverse citazioni un po' come hai fatto adesso mi sembra giusto anche perché Xenakis ha scritto parecchio parecchio quindi musica architettura poi questo libro che raccoglie diversi altri suoi interventi saggi eccetera bene poi c'è anche music formelle una negazione della valenza seriale allora faccio un salto indietro nel 1940 Edgar Vares che tu hai appena ricordato per definire e poter parlare della propria musica che evidentemente veniva criticata in quanto tale aveva già proposto una sorta di aggiornamento lessicale in questi termini do la parola a Edgar Vares preferisco servirmi dell'espressione suono organizzato evitando così la tediosa questione ma è musica? mi sembra che il termine suono organizzato colga più precisamente all'aspetto duplice della musica che è insieme un'arte e una scienza dunque il comporre qui viene concepito come un costruire musica organizzando i suoni secondo un progetto costruttivo ora Xenakis parte da qui ma approfondisce forse radicalizza questa visione per lui il problema del comporre prima ancora di riguardare la costruzione della musica cioè mettendo insieme assemblando organizzando appunto i suoni nasce già come necessità di costruire il suono stesso cioè pensato proprio come corpo sonoro materia sonora nella musica Xenakis allora saranno questi dei corpi sonori che verranno poi organizzati o meglio vedremo verranno messi in movimento verranno messi in movimento e dentro che cosa a qualche cosa che già possiamo chiamare uno spazio acustico ora proprio il lessico queste parole incominciano ad entrare nei testi di Xenakis in maniera sempre più vistosa il problema allora diventa come costruire il suono prima ancora di come costruire la composizione l'approccio di Xenakis a questo problema è molto particolare molto originale perché lui muove dalle sue esperienze di ascolto ma non solo e non tanto di ascolto della musica ecco cosa scrive in un saggio del 1977 mi sembra la parola Xenakis alla vigilia della seconda guerra mondiale mi capitava di fare escursioni in campagna ascoltavo le cicale il vento tra i pini i rumori delle onde la grandine sulla tenda poi durante l'occupazione nazista ho sentito il suono impressionante delle folle che marciavano verso il nemico nelle vie della città le arterie principali di Atene allora si riempiono di slogan scanditi con ritmo marcato quando i manifestanti si avvicinavano i nazisti che aspettavano quei carri sparavano sulla folla subito urla di rabbia di dolore di paura di morte a sostituire gli slogan ritmati la manifestazione si trasformava in un'incredibile ressa di centinaia di migliaia di voci che riempiono la città intera di grida di fumo di polvere di sangue colpi di mitragliatrice esplosioni incredibile anche questo questa fotografia di ciò che sappiamo ma fa sempre una certa impressione anni dopo a Parigi quei ricordi si sono svuotati del loro contenuto emotivo e mi hanno lasciato una domanda astratta quali erano le loro strutture e le loro trasformazioni nel tempo i miei studi precedenti la matematica e la fisica studiate al Politecnico di Atene nonché uno studio abbastanza approfondito dell'antichità e della filosofia si rivelarono in quel momento di grande utilità in campagna o nei cortei quello che sentivo erano masse sonore fu questa la mia prima conclusione quindi il concetto di massa sonora è fondamentale per entrare nel pensiero musicale di Xenakis quando percepiamo guardate scusate la parentesi Xenakis che spesso è stato accusato quindi di disinteressarsi dell'ascolto e della percezione invece no ancora già nel 70 stava dicendo d'altra parte quando percepiamo i nostri sensi e il nostro cervello si comportano in modo statistico e per questo siamo in grado di riconoscere le proprietà globali di una massa sonora per esempio il suo livello di densità le curve di intensità di altezza ciò noi percepiamo globalmente allora anche partendo da quest'ultima importantissima osservazione di carattere psicoacustico Xenakis quindi ricava una fondamentale indicazione riguardante proprio il modo in cui il compositore può procedere per creare delle masse sonore scrive ancora questa volta in musica e architettura il mio primo tentativo fu quello quindi sulla base di queste osservazioni di questi ascolti il mio primo tentativo fu quello di introdurre in musica dei fenomeni globali scaturiti da un gran numero di eventi sonori isolati e Xenakis ne individua subito due categorie di questi eventi sonori isolati possiamo avere a che fare con dei punti sonori che a volte chiama particelle atomi sonori oppure con delle linee e le linee queste ultime sono delle rette diciamo che possono essere orizzontali e quindi è un suono tenuto giusto? oppure possono essere ascendenti o discendenti da qui nasce il concetto di diagonale e dunque di glissato e di glissato di cui abbiamo già parlato e non spiego che cosa sia insomma Xenakis arriva a concepire il comporre come un creare e modulare lui dice scolpire una massa sonora introducendo un gran numero di eventi e potendo fare riferimento alle formule del calcio di probabilità per esempio di Gauss o Poisson eccetera eccetera allora a questo punto sono le masse sonore che nel corso del tempo potranno dare vita a una forma cioè a un tutto organizzato quindi abbiamo creato il suono al cui interno c'è il movimento degli atomi sonori e adesso questi corpi sonori li metto creo una forma cioè un tutto organizzato in che modo sia perché una massa si mette in movimento essa stessa dunque per esempio si trasforma sia entrando tra loro queste masse entrando tra loro in relazione in quanto singoli e distinti piani sonori massificati lui parla di piani sonori massificati è così che oltre a costruire o a comporre il suono Xenakis arriva a strutturare organizzare le masse sonore in una forma architettonica più ampia quindi abbiamo adesso delle masse che si organizzano tra loro il comporre diventa così una specie di contrapunto dice di piani musicali massificati che possono congiungersi contrapporsi possono essere amalgamati polverizzati qualcuno ha parlato che invece del contrapunto c'è un contrappiani nel senso che non è più semplicemente linee che vanno in contrapunto ma masse ed è in questo modo che si passa importante anche questo dalla linearità del discorso musicale alla costruzione di una specie di corpo solido sonoro come si trattasse di una forma architettonica che però mettendosi in movimento agisce nel tempo adesso potremmo ascoltare un brevissimo frammento anche per dare un po' concretezza a queste osservazioni quindi proporrei di ascoltare l'audio 1 vediamo se arriva un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.